torniamo con le nostre interviste oggi abbiamo l'onore di di parlare con una persona a me molto cara lui è riccardo e parte del comitato g canaria e come avrete capito lui fa parte di quelle persone che vivono fuori dall'italia e che appunto seguono le nostre le nostre vicende anche lui partecipa alle nostre battaglie se possiamo chiamarle riccardo dice intanto chi sei e prego ok allora io sono riccardo ho 52 anni sono nato e cresciuto all'isola delba dove ho praticato da sempre fin da quando ero bambino windsurf e all'età di 39 anni ho deciso di trasferirmi alle canarie per affrontare l'oceano e continuare a praticare questo sport che a mi piace tanto e quindi dal 2009 vivo qua a forte ventura diciamo che tu perdonami questo sport tu la pratichi comunque a livello amatoriale ma amatoriano in italia ho fatto anche delle tappe del campionato italiano quando ero più giovane però da diciamo da quando sono quasi a livello amatoriale anche perché ormai l'età non me lo permette più di di competere a livello più alti diciamo certo no quello che insomma mi preme sentire da te appunto la tua vicenda no cioè da dove arrivi e perché sei approdato a noi sostanzialmente sì allora diciamo che io da quando sono qua dal 2009 fino al 2016 quindi fino ai 46 anni il mio corpo ha retto bene a tutte le sollecitazioni agli sforzi perché comunque il windsurf è uno sport molto impegnativo e molto esigente a livello di prestazione fisica diciamo e fino ai 46 ci ho dato giù senza ritegno e non ho avuto particolari problemi se non chiaramente la schiena normale la fatica dopo tre quattro ore di sport in acqua un po di fatica si sente immagino poi con quel vento e quelle onde insomma esattamente esattamente insomma poi tu non seguono che si risparmia no 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 ma la mia filosofia era si esce quando si hanno i crampi ecco e finché poi cos'è capitato insomma ai all'età di 46 anni mi ricordo fine estate 2016 ho cominciato avuto ho cominciato ad avere sintomi strani come formicolio alle mani senso di sbandamento o confusione mentale rigidità qua ai muscoli del collo cose che non avevo mai avuto prima e che sono arrivate tutte insieme e quindi io mi sono un po spazzato crisi di ansia non riuscivo a dormire la notte tutta la sintomatologia che poi nel tuo libro e con te abbiamo approfondito perdonami ma se voglio approfondire su una cosa tu ti ricordi un evento particolare oppure una cosa che arrivata il primo campanello di allarme è che mi ricordo che quando andavo sulla tavola girato a destra aveva una vertigine pazzesca in acqua mi girava tutto mentre quando andavo con la testa girata a sinistra no e al momento ho pensato bom stamani ho fatto poca colazione magari sono più debole però era veramente strana era un capo ci totalmente forte come quando ci si alza velocemente da terra che c'è quei 23 secondi e bom è stata la prima bisaglia finita lì però ho detto boh vabbè sarà stato un giorno strano poi però la notte quando mi giravo cambiamo posizione anche lì partiva la vertigine un'altra volta e quindi cominciamo a dire ma cosa sarà cosa sarà finché poi come dicevo a fine agosto 2016 è arrivata la mazzata mi sono svegliato una mattina veramente male veramente con il primo attacco di panico che non sapevo cos'era perché io ho mai avuto cose del genere non sono andato a fare colazione non avevo fame formico di panico che comunque insomma di panico è quella classica della sudorazione tachicardia cuore accelerato senso non sapevo alle otto di mattina che di solito uno si alza a fame fa colazione quindi mi sono spaventato ci ho messo sul carico che cavolo mi sta succedendo e quindi ho cominciato a fare il giro del dottorino poi della crili della clinica che abbiamo a coral eco che la sua risposta quando gli ho descritto tutti i miei sintomi mi ha guardato con gli occhi da pesce chiaramente metto fai una bella colazione con burro e marmellata ho detto boh ok qui non se ne viene fuori andiamo dall'osteopata mi dismi guardò mi disse sei storto però è normale perché dice tutti abbiamo una parte del corpo più forte nell'altra due settimane si risolve due massaggi un po di agopuntura e sono andata avanti così tra un osteopata un fisioterapista un fisioterapista e un osteopata per un annetto non venendo a capo di nulla e quindi poi ho cominciato a cercare su internet come fanno un po tutti e ho trovato il sito di atlantotec e dove guardando con quelle testimonianze tutti parlavano più o meno io preferirei non fare nomi però l'hai fatto tu quindi va bene la mia atlantomed perché l'ho fatta a madrid non sono andato in italia l'ho fatta madrid questa atlantomed dove guardando le testimonianze di questi ragazzi tutti descrivevano più o meno soliti sintomi la vertigine l'acufene la confusione mentale la fornicolia le mani e ho detto boh questo ce l'ho questo ce l'ho ok andiamo a fare l'atlantomed quindi prendo il mio volo a ryanair vado a madrid mi fanno firmare un foglio tipo una liberatoria non so bene cosa era ma io da ignaro mai avuto queste cose ok andiamo sotto e mi hanno martellato per un quarto d'ora 20 minuti devo dire che il massaggio è ancora ancora piacevole perché questo martelletto che ti vibra ti rilassa un po i muscoli quando poi te lo te lo pianta qua nell'atlante non è più piacevole per niente e niente fatto quello poi sono tornato a forteventura il tipo mi ha detto ok ora ci sarà un periodo di aspetta come l'ha chiamato di purificazione del corpo in spagnolo e il corpo si va a purificare ok e io aspetta questa purificazione un mesi due mesi non è cambiato assolutamente niente e quindi sono tornato nel sito dell'atlantomed leggendo le recensioni sotto i vari commenti c'era un tal alessandro 83 mi ricorda ancora lui diceva lui no a me non ha fatto niente sono passati già otto mesi proverò con il metodo for mia lampadina metodo for mia chi è questo metodo for mia sono andato su google e ho trovato praticamente il vostro comizio al centro congressi di torino che avete fatto me lo sono guardando ingresso esatto dove ci sono atleti che parlano ci scrivi tutto questi complottisti torinesi questi complottisti e ho detto ok interessante questa cosa della testa che cade mai per me proprio mai che la testa cade da come come è possibile adesso ti interrompo un attimo perché voglio fare una premessa allora hai parlato di trattamento dell'atlante così come se trattamento osteopatici eccetera eccetera io ovviamente io non voglio parlare male di nessuno e rispetto a tutti devo però dire che nel tuo caso come nella maggior parte dei casi io dico quasi tutti cosa ti succede in questo frangente succede che le tue scapole si trovano su due piani differenti si trovano su due piani differenti proprio a causa della simmetria dei muscoli elevatori delle scapole che vanno a ruotare le prime vertebre cervicali facendo quel lavoro comunque la tua attività sei maggiormente sollecitato proprio in quel punto e quindi il tuo cingolo scapolo omerale si trova in una posizione asimmetrica e quindi va a ruotare la testa ruotando la testa cosa succede succede che se ruoti nella in una certa direzione vai a comprimere alcune parti che è un po come se si chiudesse un tubo dell'acqua e quindi sostanzialmente tu sviluppi dei sintomi ma la conseguenza di un disequilibrio che avevi e che nessuno ti ha visto e nemmeno te sapevi avere quindi io dico sempre andare a correggere una vertebra cervicale quando la causa un'altra mi sembra un po paradossale per certi versi potrebbe anche non fare proprio bene chiudo qua faccio riflettere sul motivo per cui poi tu hai trovato me trovato le mie pubblicazioni e nonostante tutte le diffamazioni le critiche che ho su internet comunque hai usato onore al merito il tuo cervello hai ragionato con la tua testa insomma sì perché leggendo le testimonianze vedendo comunque gli atleti che parlavano quel congresso detto beh non è possibile che atleti anche della nazionale della pallavolista del corridore che c'erano possibile che sia tutto montato che sia tutta una coreografia sì che ho preso un appuntamento con te ovviamente sempre sotto legida del comitato è perché sai che io lavoro tramite comitato quindi esatto sì siamo mi ha individuato il disequilibrio mi hai tracciato tutte le frecce tutte le linee e dobbiamo dire che la prima consulenza illuminante perché ovviamente ti faccio vedere tutto quello che è la tua problematica meccanica ci tengo è meccanica ti chiedo dopo insomma alcuni anni che noi continuiamo comunque periodicamente a vederci tu insomma pare che tu abbia recuperato se non altro la parte meccanica si sono più dritto poi riguardando tutte le foto che avevo effettivamente dopo che sono venuto da te mi ha tracciato le linee ho cominciato a guardare tutte le foto dietro nel tempo io questa roba non dico che ci sono nato ma forse anche sì tutte le foto da poi io ci sei nato perché nella pancia di tua mamma venivi schiacciato in alcune parti lei a sua volta anche lei nata comunque dalla pancia del di tua nonna compresse in alcune parti quindi è congenito nel tuo caso tutte le foto sei un poco al gobetto con la faccia la bucca un po spostata la mandibola quindi finché il corpo arretto arretto e poi è successo il patate e di tutti i sintomi che avevo praticamente mi è rimasto ora solo ancora un po il senso di mal di mari io lo chiamo questo che non è una vertigine non vedo girare niente però è ancora un po se la testa veloce ho ancora un po di fastidio chiaramente io sono ancora un basso non solo due anni che vengono tanti sì sì no ma chiaramente io te lo dico perché perché comunque nel tuo caso eri in una condizione particolarmente avanzata cioè non eri tra i casi più si dice meno gravi ma in realtà non c'è grave o meno grave avevi un disequilibrio insomma abbastanza importante quindi lo sentivo che avevo qualcosa che non andava che non bastava il massaggio e soprattutto tu comunque non hai mai o comunque per poco tempo hai rinunciato la tua attività quindi c'è da dire che hai proseguito e nonostante tutto da quello che mi dici hai avuto comunque dei miglioramenti sia in stabilità che in in performance passami il stanco meno riesco a finalmente andarmi a mangiare una pizza mentre prima come entravo in un ristorante in una pizzeria con tanto rumore tanta gente io dopo cinque minuti ero ubriaco veramente non riuscivo poi la paura che mi succedesse questa cosa mi portava a evitare di uscire troppo con gli amici e tutti ridono tutti si divertono e te sei l'unico lì con la sudarella e lo stordimento che capisci bene che uno alla fine può rinunciare quindi queste sono cose che hai comunque risolto comunque sono in via di attenuazione sì 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 oltre ad essere più dritto perché insomma quando vieni qua oggi quando vengo tutte le volte mi dici quello dico me lo stai dicendo te anche volta volta che le piccole sì io non le noto cioè prima mi ricordavo sì una spalla ero stor veramente e ora ancora tu mi dici ok manca ancora un pochino spostiamo questo mandibola spostiamo un pochino la clavicua però siamo diciamo alla fase del dei ritocchi se li possiamo ragion per cui io ti sto intervistando altrimenti non ti intervistare comunque io direi che dopo quasi 20 minuti se ancora qualcosa da aggiungere io sono molto già molto contento di quella che è stata la tua testimonianza direttamente da diciamo dall'oceano atlantico no e colgo l'occasione per dire che non stai prego dal profondo atlantico dal medio atlantico siamo sì comunque colgo l'occasione anche per dire che tu non sei l'unico del comitato canario perché ci sono altre persone che comunque vengono da quelle bellissime isole e non sono nemmeno tutti italiani quindi a maggior ragione per sottolineare che insomma oggi è una realtà ormai internazionale diciamo così sono molto contento di averti sentito e niente ti auguro tante onde tanto conto tante onde tante surfate e mi raccomando non stancarti troppo è che sei ancora bene ci troverò il problema è quello maurizio limitarsi perché quando poi specialmente poi dopo che facciamo le modifiche sto meglio e quindi via giù dentro un'altra volta non voglio comunque entrare nei tecnicismi ok per adesso ci fermiamo qua avremo modo di risentirci e ancora qualcosa da aggiungere ma io che aggiungere posso che non ritorni all'isola d'elba come non ritorni all'isola d'elba spero di no spero di no ritorno a trovare la famiglia trovare mamma la sorella vedere gli amici però no io con l'italia fortunatamente ho chiuso sto molto tra l'altro facciamo pubblicità tu hai anche un'attività di su internet sul tuo canale youtube vogliamo ricordare la mia passione secondaria dopo il windsurf e la musica si vedono anche le chitarre sono qua dietro vediamo infatti ci sono due mani di cichitarra e mi diverto a fare musica elettronica anche un canale abbastanza seguito devo dire anche che si chiama fuerteventura deep sound bene ai nostri ascoltatori se vogliono sentire un po di musica elettronica per tirarsi sul morale quando si allenano magari perché no va bene dai riccardo io ti saluto e alla prossima sì tanto ci rivedremo per la prossima modifica d'accordo aprile maggio a presto ciao ciao a tutti a sta l'ego ciao a tutti e ci siamo ciao a tutti